Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con IacoRollo Ciao Ragazzi siamo su IlluminatiCraft a fare le Lucky Wars Quindi ci rivediamo direttamente in partita E speriamo di fare le lezzatine Via E speriamo di fare le lezzatine Cos'era? E' un intro Ok ragazzi eccoci nella prima partita Io mi chiamo Pappi Iaco si chiama Pappi Nomi bellissimi ovviamente C'è una funzione misteriosa man No no allora se la devi prendere Prendila all'ultimo Quando stai rischiando la vita e non sai cosa fare ok? Io intanto cerco qui un pochettino di cose Ah la TNT se tu c'era nell'isola prendila Così la puoi lanciare addosso ai nemici ok? Ma scusa ma qua sotto non c'era niente? Che schifo è? Oh aspetta ma qua dentro Ok qua dentro c'è una cesta perfetto Ma Dio mio lo schifo Iaco lo schifo Mi è andata malissimo a me Ma tantissimo Anche a me Proprio una roba terribile Ah no c'è un altro Lucky Block qua Nascosto Diamanti Non ci credo 8 diamanti Ma c'è una cassa qua? Eh ce n'è una dentro la struttura strana Non so cosa sia di preciso Ok Però c'è anche una botola Uh una spada Oh nove Enderper ho trovato Nove? Boia No 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 ho tirato No cazzo no Morto? No ho tirato la chestplate in diamante dentro la struttura E ora devo andarla a recuperare Ma aspetta c'è una botola veramente dentro la struttura strana eh Io ci vado Ah no non porta da nessuna parte Dove sei tu man? Ci vediamo Eh andiamo al centro? Sì Ok andiamo al centro Andiamo al centro Mi tipo sopra un albero se posso Cioè ci provo Spero di riuscirci Cazzo mi sono bagato nell'albero No Iaco Oh cazzo spuso tutto Stanno sparando No 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 c'è uno qui No 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 Dai mi sono suicidato Mi sono Ti l'ho ucciso però Ho tirato tutte le TNT accanto a me Tutte Ok ragazzi eccoci in un'altra partita lezzissima Siamo nell'app a cantiere Un'app enorme Ma che tutto sommato ci dà sempre grosse soddisfazioni Quindi magari riusciamo a fare qualcosa Qualcosa magari di decente No dai però Se devo combattere con la palla No parti Sarai la mia vittima Va bene Ok minaccio in chat Comunque No Iaco Oddio c'è un'altro qua L'avevo perso Collezione di uovo ho trovato Grazie Nova per la collezione di uovo Tantissimi enderper Non male Non male Una spadina Un pochettino di cose tattiche E mi manca ancora tutto il pezzo di sopra Ad esplorare Vabbè Iaco Di armature faccio schifo Però per il resto Sono messo bene Tu cosa hai trovato per l'ora? Un cuoio Guarda non è che ci faccio proprio di tanto Però è sempre meglio di niente Vabbè se sei nudo Eh no Vabbè Minchia ho sempre rifiutare i miei doni Ma non lo so ma perché prima devo guardare cosa trovo qua sopra Ecco Uuuuh Meno male che ho rifiutato Iaco Ho trovato tipo le big cose potentissime Eh beato te Per fortuna Qua cos'è? Una gelatina merdosa E mi rimane soltanto quella nel container da controllare Ecco lì mi sa che c'è buona roba Minchia buonissima La roba che ho trovato lì Ho trovato la merda Sì assolutamente Però per il resto è andato bene Veramente ho trovato ottime cose Ho trovato un'armatura potentissima Ho trovato la spada in diamante Cioè Buono buono Non mi lamento Vorrei andare al centro Però c'ho abbastanza paura Tu Cosa vuoi fare? Uno che si trattasporta da me Cioè Fappi Fappi ti ho visto Ti aiuto io ti aiuto io Mi tipo Ah ok Mi tipo nella tua isola Così No cazzo sono caduto Ah no ok Sono ancora vivo Mi vado sopra da qua E' quello lì che si è tippato da te eh Eccolo qui Eccolo qui Aio Mori 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 Esplode tutto qua Ok è morto è morto Non so se l'ho ucciso io oppure no Ma è ancora vivo Non è apparso più morto È giù Ma come fa avere spada in diamante? Non lo so Ma dove è finito veramente? È giù Ma giù dove? È giù Nell'isola Ma ci sono io giù eh Jacopo Ah si? C'ho paura Sì 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 Non so lui dove sia finito Forse si è tippata all'ultimo Vabbè non Non sono un tipo curioso Io me ne vado al centro Senti eh Non veramente non so che fine abbia fatto Un po' ho paura Ti stai trasporto uno da te Sì ho visto ho visto Lo piglio alle spalle Ok muori 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 Ucciso No cavolo Tutta la sua roba di sotto Ah si è salvata Che culo Ma non tutto Le ender pearl sono cadute Vabbè ne avevo tantissime Non mi servivano nemmeno Allora ho trovato le scarpettine buone Il cappellino non ce l'ho Vabbè Nulla di buona alla fine Mi ritippo al centro Ci riprovo eh Fappi tu sei lì Ok Sperando che nessuno mi si ritippi addosso di nuovo Perché sennò è tragica la cosa Quindi tu ce la fai venire al centro o no C'è le ender pearl No Se possono shoppare Sì ma non so se c'è i soldi Probabilmente non ce li hai Ok mi sono tipato al centro io Tutto le monete Che spalle Ok guardo prima se c'è qualcuno Perché Ok non c'è nessuno Perfetto Vabbè Jaco Ce la fai a fare un ponte Sì sì vieni via nel centro se puoi Ci sono io Sono dentro la struttura Ok Pozione misteriosa Mmm Cavolo strega di merda Ok uccisa La pozione misteriosa Allora me la metto qua Jaco Che tu sei già che alla fine Andrà bevuta perché Ah io Tu ce l'hai o no intanto Cazzo ma cos'è che esplode Ma senti che fa esplodere tutto Sì sì Ma l'izzino proprio Allora io qui continuo a spaccare un po' di cose eh Intanto Non è l'altro Eh no ne mancano due Non so dove siano finiti Vabbè ora si controlla Oh altri ender pearl Perfetto Vabbè mi tippo da tutti a questo punto E tante cose interessanti Mmm Buono 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 Vabbè continuo a controllare un attimo altri Due Altri tre Lacky blocchi qui E poi vado eh Vado all'attacco Un cane Vabbè il cane non lo voglio nemmeno E ora vado a vedere Jaco Allora In cima Che poi sai cos'è il problema Che non si vedono i player qua Perché sono troppo lontani Quindi la meglio forse sarebbe Tiparsi su un'isola E poi farsene tutte Però ho paura Eh come le ragazze Eh Eh Jaco 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 Dai vado Io vado su questa qua Senti due di là hanno fatto un ponte Quindi io vado da quelli che hanno fatto il ponte Perché mi ispira sempre fidu Eh non lo so C'è un ponte Davanti a me praticamente Io ho detto Boh magari Se ci saranno fatti i ponti Ok Uno se ha fatto il ponte È nato dall'altro Magari l'ha ucciso È là dentro infatti No no ci vado io Ci vado io Brutto Non guarda che fai lì È tutto incantato però Hai bisogno eh No tranquillo Ah ok l'ho visto L'ho visto ora Guarda che faili le enderpearl È da lì eh Ok Lasciola a me Brutto Lenzo È mio quello lì È mio Ho failato le enderpearl Davvero? Sì No Jaco Demon Jaco fai schifo Te l'ho detto Io non farò da lì Perché faili le enderpearl Eh Tu è finito Jaco non c'è più qua È magia Johnny Eccolo qui Eccolo qui Ha la spada potentissima lui Ha la spada potentissima Te l'ho detto che hai bisogno di me No Jaco Jaco no No mi ha ucciso Te l'ho detto che hai bisogno di me Aveva la spada quella che faceva 13 di danno probabilmente Cavolo Te l'ho detto che hai bisogno di me Eh sì Eh sì Ma tu l'hai failata Ok ragazzi Eccoci nella mappa del Natale Perché per noi è sempre Natale È vero Per me è già Pasqua In effetti In effetti è vero dai Comunque vabbè Io ho un po' di paura per questa partita Jaco Eh paura Ho trovato Un bastone del saggio È nuovo Cos'è il bastone Ah no Eh Non penso di averlo mai visto prima Ok armatura Perfetto Un pochettino di cosa Almeno ce l'ho subito E quella accanto a me cos'ha Ah no Oddio l'ho visto blu Ho detto cavolo C'ha tipo La roba in diamante Invece no Per fortuna Vabbè Jaco Se vuoi mi avanza un po' di armatura Se ti interessa Quindi magari Se ci incontriamo Ti passo un po' di robettine Oddio Ok perfetto Non mi ha fatto nulla Sentivo tipo Un coso Un pollo Che però faceva Il suo rumore del creeper Quindi era abbastanza preoccupato Devo dire Comunque ok Ho trovato un pochettino Di cose abbastanza buone Sembrerebbero abbastanza buone E io sono già pronto Per andare Ad attaccare Perché l'ender Oddio Ma c'è il pollo qua Ma tu sei fappi Si io sono Oh esploso Ok esploso Allora poi Ah ma tu sei alla mia sinistra E quello Ok Avevo paura di te Allora all'inizio Io Jaco vorrei andare al centro Ma È un problema Perché No stai attento Stai attento È un problema perché Comunque l'ender pearl qui È difficil Cioè è facilissima La failare Quindi ok faccio Oh c'è un altro Anche che vuole andare al centro No mi lancia le cose Mi lancia le cose Andiamo al centro dai Cazzo 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 Io l'ho tirata Mi sa che l'ho failata tantissimo Jaco No Come l'ho fatto Come l'ho fatto Jaco Non so come ho fatto Non c'ho blocchi Non c'ho blocchi Ti ritiro ti ritiro Ce l'hai i blocchi Te l'ho visti Jaco veloce veloce Che ci tirano le cose Non è altri Ok perfetto Sali sali Stai laggando man O sto laggando io No a me No non mi apre le casse Non mi apre le casse Allora tu hai già preso tutto dalle ceste o no Sì un po' Ok Cosa hai qualche corazza Ma oddio Io sono messo abbastanza male Però Aspettamento Guarda la cassa Ok ho trovato un po' di cose Ho metto un po' di armature interessanti nella cassa Ok perfetto Dimmi quale cassa Ma no ma Guarda dietro di te L'Ender Pearl Sono sparite Mi sono sparite L'Ender Pearl Oh madonna i ragni Bellini eh Ti piacciono Fanculo va No i ragni Mi hanno velenato Le avevo trovate Me le ha fatte sparire No Eh no Cosa cosa succede Eh Avvelenano i ragni Ah Non è che Vabbè c'era un po' di mele durate o no Ma se è acceso vuol dire che sull'isola c'è qualcuno Cosa è acceso scusa Oh madonna Ti ho evocato Ok Muori Perfetto Ender Pearl Un po' di Ender Pearl Le ho rubate a te così Allora Poi gli altri dove staranno Giù quasi qua Ok ne ho visto uno Ne ho visto uno Però non ho Ok si ho l'arco Perfetto Dovrei riuscire a buttarlo di sotto Jaco non mi passare mai nella vita davanti eh Eh ma non hai visto cosa va intorno Eh Sinceramente non ho visto No la me l'ho più E' caduta di sotto Sì Cavolo Provo a fare una specie di punticello Per cercare di uccidere quello che mi sta qua Ok Oh Muori Cazzo cadi Ok è caduto Ma dov'è Ma dov'è Non so se l'ho ucciso però Ma no è morto Ok si è morto è morto è morto Eh Cerco di fare un giro tappo Dove hai gli altri No 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 Schifo 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 Ok c'era tipo il coniglio schifoso Ok perfetto Gli altri non lo so dove sono Ma comunque non ne mancano tantissimi E ce la possiamo fare Jaco Ce la possiamo fare Mai non ci credo Non credi mai Te in me No comunque aspetta Cerco di fare Cioè cerco di salire un pochettino Così una visuale un pochettino migliore Ah ma ci sei anche te qua Ciao E poi guardo Perché io sinceramente non vedo nessuno Cioè ho visto quello di prima Perché stava venendo al centro Però gli altri Non ne ho la minima idea di dove siano Ok c'è uno qua c'è uno qua Mori 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 Penso di averlo buttato di sotto Sei tipato uno Sei tipato uno Jaco È caduto È caduto Mi manca soltanto uno quindi E non è Manca Rexten Coso Ma non so dove sia Ho paura che sia invisibile però Potrebbe anche essere Mmm Io so una cosa La paura proprio I segreti Allora Cerco di fare Tipo una specie di ponticello Da questa parte Così magari se dall'altra parte lo vedo Ok Ok l'ho visto L'ho visto Iaco l'ho visto E vieni Ce la faccio anche da solo Lo sai Quella casa l'ha Sì Vediamo Ok l'ho tirata bene Provo a frecciare un pochettino Mangio anche un po' Perché c'ho fame Ok eccolo qui Eccolo qui No come 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 il cazzo ha fatto Mi ha tipo Ok No no Uuuu Iaco 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 Sono vivo Iaco porca puttana Sono vivo Cazzo Attento a cosa fai esplodere Ha tipo lo stecchino OP Mi sa Ucciso Bella 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 Ok scontro serio Scontro serio Aspetta 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 No è la meno OP Non mangiare la meno OP Oh oh stronzo 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 No no Iaco 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 Fermati Pappi Chi era Pappi Ero io Chi è Pappi Non lo so Ero io Eri te Chi cazzo ha vinto Aspetta dove sei Vediamo Non lo so Sono al centro Pappi sei tu Sì ho vinto io No Tipo non si sa nemmeno Che vince Vabbè Ok ragazzi Eccoci nell'ultima partita La mappa di COD Se non sbaglio Che è abbastanza figa Si parte subito Con la spana in diamante E tre mele durate Ok Ok ci può stare questa qui Ci può stare tutta Magari quella fortunata Uh otto diamanti anche No Iaco Io sbanco qui Io sbanco Sbanco la banca C'è Stormi Io invece ho dovuto trovare Air and Blaze Ho trovato E la madonna Addirittura Io per fortuna Con il diamante Perché non mi da sto coso Cazzo L'ha gattonato Sì Tipo un drop di FPS Bon Ok allora Provo a salire Io mi tipperei Quasi quasi al centro Tanto ho l'armatura in diamante Almeno un pezzettino Questa merda Vabbè io mi tippo Iaco Vado al centro Ok Arrivo anche io adesso E mi rifugio subito In qualche casa Perché tanto qui Questa Oddio Non ci credo Ho trovato la spada Santissima divina E ce n'è anche uno qua C'è anche uno Mangio subito una mela dorata Così non rischio Dove è finito? Eccolo qui Lì dietro Lì dietro Ma perché non mi Oh che ce n'è un altro qua Ah no quello sei te Oh quello sei te Oh ce n'è un altro qua però Questo è vero Ma non sa che io Ho la spada più forte della sua Quindi ci prova Iaco mi stai dentro Mi stai dentro Stai attento che così ci becchiamo Tra di noi eh Bella bella No Come no? Si è salvato? Si si sta aprendo per il culo Ok un altro qui Che è rincorso da un altro ancora Iaco stai attento Stai attento Ok No 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 Non c'ho vita Dietro di te Dietro di te No Iaco non c'ho vita Iaco non c'ho vita Ucciso 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 Bella bella Cavolo mi stavo quasi per uccidere Non so come però Perché era messo peggio di me Ok intanto Mi sono preso tutte le sue cose Che erano abbastanza buone Ma c'è un altro C'è un altro là Al centro? Si Io Ah quello sei te Madonna Perché c'ha Uno con la scritta lunga c'è Eccolo là Eccolo là Dove? Ah dentro la casa Si lo cerchiamo Io vorrò da questa parte Oh 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 Ciao Bella bella Ok morto Madonna le stragi stiamo facendo eh Uno di qua Ecco ci sono due di lì Che ci stanno guardando Andiamo a prendere le cazze allora Si ma Jaco non so quanto ci convenga Secondo me è meglio rimanere qui al centro E prendere tutte le cose dalle ceste Infatti Ok perfetto Perché tanto Ora è al centro il nostro Quindi c'è sti cazzi di loro Anche se in effetti Uh qua è pieno di ceste Ok Spadini interessanti Cose interessanti Prendo cose a caso Di qua non c'è niente Bah A me è andata bene A me è andata bene Apro un po' di lucky block così Perché non l'ho ancora aperto praticamente E guardo se trovo qualcosa di buono No praticamente niente Che se ne frega Però le ceste le voglio aprire tutte Ma quando c'è la bandiera qua Ma che Ok Cose inutili si vedono Ok ce ne sono due davanti a me Uno sei te forse Sì uno sei te E l'altro È lì nascosto Però cavolo non ci abbiamo enderpearl No io ce li ho Quante ne hai? Beh Eh vabbè allora no Ne cerco un pochettino io Magari mi va bene Le trovo da qualche parte In qualche lucky block Tipo questo Oddio Ok ho ucciso uno Un altro Ho ucciso man Cos'è? Ucciso man Ok hai ucciso uno Bella E quanti ne rimangono? Due Ok due Ne rimangono due Siamo messi abbastanza bene Io non so però dove possono essere Soprattutto Eh uno sta facendo un ponte Allora fallo venire Perché tanto gli enderpearli siamo carenti Aiuto Sono bloccato Come sei bloccato? Ah ti vedo E non sai come aiutarti No è andato Uno si è tipato Uno si è tipato Dove? Eh Ma non funziona il Ma perché l'ha messa lì la lava? Le cose Bancatissime Ok prova ad uccidere È l'ultimo È l'ultimo Ah ok perfetto Oh ma muori No sei ritippato Che palle Andiamo insieme dai Guardo se posso shoppare Perché C'è un arco? Perché io c'ho un sacco di frecce Sì io ce l'ho l'arco Ma ce l'ho anche C'ho anche le frecce Prova a shoppare un pochettino Guardo se posso Ok sì perfetto C'avevo abbastanza soldi per shoppare Soldi guadagnati Ok Morto Morto Dove sei te? Iaco? Ah ti ho visto eh Iaco Iaco Dove scappi? Dai non scappare Non fare il lezzo eh Dove sei? Lo so che stai provando qualche tattica strana Ma con me non funzionano Iaco cosa stai facendo? Cosa? Lì dentro cosa fai? No Iaco Oh che cazzo è? Che cazzo è? Iaco Ma Cazzo Lo sai che non mi hai fatto nulla di danno? Che spada avevi? Avevo tipo tutti i cuori ancora Quindi ragazzi Abbiamo fatto un bel po' di partite due L'abbiamo vinta Di cui io non sapevo nemmeno se averla vinta oppure no Cioè cose a caso Comunque come al solito il canale di Fappi Lo trovate in descrizione Ciao Spero che il video vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao